Ciao, io sono Alessandra D'Amato e sono di Roma. Sono una pasticcera antropologa. Non riesco a scindere del tutto le due cose. Ho cominciato ad avvicinarmi alla cucina, ho fatto dei corsi amatoriali di cucina e inoltre insegno ai ragazzi, perché ho capito che è fondamentale condividere le conoscenze e i ragazzi stessi insegnano sempre qualcosa a me tramite le loro domande. Ho iniziato a lavorare in un forno di notte a Ovindoli e dopo 14 ore di lavoro a spostare sacchi di farina da 25 kg e avevo il sorriso e ho detto va bene, mi sa che questo è il mio lavoro. Non ho un vero e proprio idolo, ma ho delle persone da cui ho preso ispirazione e sono sì, sicuramente degli antropologi che sono parte del mio studio, la mia mamma che è fondamentale nella storia della mia vita ed effettivamente tutte le persone che mi hanno insegnato qualcosa durante tanti i miei viaggi che mi hanno portato nelle loro cucine, che mi hanno fatto pasticciare con loro con le mani, persone che vogliono andare un pochettino oltre e che vogliono incontrarsi. Cerco di insegnare un modo di fare pasticceria che guardi anche alla provenienza degli ingredienti, a chi ci lavora dietro, a come costruire anche le ricette guardando sempre alla tradizione e al contesto. Glamorize l'ho conosciuto grazie alle mie colleghe che mi hanno riempito la testa di Glamorize fino a portarmi con loro una sera dove mi sono divertita tantissimo. Questa è una tartelletta al cacao con frangipane alle clementine, cremoso al cioccolato fondente e chantilly alle clementine. Ciao Glamorize, grazie!